amici di fano tv buonasera in questo approfondimento si parla nuovamente di politica nostro ospite in studio tiziano busca buonasera benvenuto buonasera candidato alle regionali per il centro sinistra a sostegno di maurizio mangiallardi lei è un dirigente azur è stato il primo giovane assessore il più giovane assessore d'italia alla sanità dall'ospedale di fano vogliamo ricordarlo era il 1975 pensiamo quanti anni sono passati sì in effetti allora fui il primo assessore con il voto ai diciottenni che divenne ebbe l'incarico di entrare in una giunta comunale di una città superiore ai 50 mila abitanti è stata un'esperienza molto importante anche da un punto di vista umano formativo perché avendo vent'anni è evidente che ogni esperienza nuova arricchisce però anche un bellissimo ricordo perché di quella esperienza amministrativa fa non ne gode ancora oggi io tra i primi problemi che mi trovai ad affrontare fu il problema della discarica e il problema del cimitero le due cose vennero risolte con una rapidità veramente straordinaria molto più veloce di quella che si assiste oggi e credo che la discarica di monte schiantello sia il più grande patrimonio finanziario ed immobiliare che ancora oggi la città di fano può disporre per le politiche ambientali è naturale che queste esperienze segnano e una di quelle che per me è stata la più bella è stata quella con il professor cuzzupoli professor pupita perché attivammo l'assistenza domiciliare che era una cosa così lontana allora rispetto al significato che ha oggi però notammo la necessità di sostenere la popolazione anziana attraverso azioni di sostegno quotidiano e sebbene il comune non aveva grandi risorse ma aveva grandi capacità di misurare il bisogno delle persone si attivò una rete di assistenza a casa di questa popolazione anziana con una ricerca che nasceva nella popolazione del porto una ricerca fatta con l'università di urbino e un gruppo di giovani sociologi all'epoca che poi sono diventati tutti dirigenti nei vari sistemi pubblici ma soprattutto di carattere sociale sanitario e quel quadro è stato un po il punto di avvia di partenza di quello che poi è stato il segno anche della nostra tipicità sanitaria fanese molto votata verso il settore sociale verso l'ambiente degli anziani grandi esperienze che ancora oggi si vivono e credo anche in maniera molto positiva da parte della popolazione tra l'altro lei è stato anche vicepresidente dell'ospedale di Fano sì è stato il primo ospedale che è stato unificato perché già all'epoca il piano sanitario regionale immaginava una rete sanitaria che in qualche modo aggregava le politiche di assistenza perché si cambiava l'obiettivo oggi noi parliamo di malattie non parliamo di salute il tema di una buona qualità da un punto di vista assistenziale è una lettura profonda di quello che è il benessere generale del cittadino che ha tante componenti e che non è fatto soltanto da patologie è fatto da un insieme di realtà che possono essere di carattere economico di carattere sociale di carattere legate all'ambiente penso che lo sviluppo di questi anni abbia testimoniato una sana politica che è la tipicità dei marchigiani perché questa regione è una regione che ha delle straordinarietà e soprattutto ha una grande capacità il marchigiano è umile ma l'umiltà non significa mancanza di qualità di intelligenza e di capacità e di prospettiva le marche hanno segnato questa differenza rispetto a tante altre regioni proprio perché la nostra gente è così la nostra è una gente che ha il sapore della terra nelle mani ma anche il profumo il colore del mare negli occhi perché siamo capaci di guardare lontano non a caso è la regione di leopardi non a caso è la regione dell'infinito perché i marchigiani hanno questa forza e questo orgoglio e questa umiltà paciosa che difende tutti ma credo che non abbia nessuna intenzione di farsi insegnare da qualcuno che viene da fuori che cosa dobbiamo fare non ce lo può insegnare Salvini non ce lo può insegnare Lameloni perché siccome loro non sanno che cos'è le marche e parlano per chi racconta una marca diversa rispetto a quella che è la realtà debbono sapere che quello che loro ci vengono a dire noi l'abbiamo già fatto da anni sia nel campo della sanità sia nel campo dell'economia sia nel campo dei servizi sociali sia nel campo dell'assistenza sia nel campo della qualità a livello internazionale perché a questi signori va anche detto che le marche sono il patrimonio dei distretti industriali e produttivi noi abbiamo i settori della calzatura abbiamo il settore della moda abbiamo il settore della nautica ma abbiamo anche la robotica abbiamo la meccanica di alta precisione abbiamo tutto ciò che gli altri sognano e allora io capisco perché in un momento come questo c'è il grande interesse da parte della destra a raccogliere in questa regione ciò che non sono riusciti a raccogliere da altre parti perché questo patrimonio è un patrimonio che ci appartiene è unico e l'orgoglio dei marchigiani deve essere quello di respingere questo assalto noi non possiamo pensare di accogliere all'interno della nostra realtà personaggi che sono definibili barbari per come si pongono per le critiche che ci rivolgono e vorrei ricordare un particolare quando i barbari arrivarono nel nostro territorio si fermarono perché scoprirono che qui c'era la farina c'era il pane c'era l'olio ed una testimonianza che abbiamo qui vicino a fano san gervasio di bulgaria gli ha permesso anche di diventare in qualche modo rappresentanti di un percorso di anima perché all'interno di questa terra abbiamo anche la religiosità che non è un fatto di appartenere a questo a quella religione ma è l'espressione con cui si matura la cultura dell'uomo perché l'uomo che pensa di essere autosufficiente solo è un uomo che ha già perso può esercitare per un momento questo tipo di azione ma non fa crescere la comunità i marchigiani hanno fatto crescere la comunità regionale viaggiando tutti insieme lo hanno dimostrato anche nel momento più difficile qualche mese fa con il problema del covid non c'è stata una separazione c'è stata un'unità perché quando i marchigiani vengono chiamati a difendere se stessi l'identità le loro famiglie la loro tradizione la loro cultura sono pronti a testimoniare il loro valore di conseguenza questo sogno della destra di poter coltivare una vittoria all'interno di questa regione gli diamo un consiglio riprendano il trenino che non ci hanno mai dato perché le politiche nazionali hanno fatto solo una cosa nei confronti di questa regione pochi servizi poche infrastrutture pochi collegamenti non rendendosi conto che questa poteva essere per la nazione italia la piccola svizzera che ha preservato i più grandi valori della propria natura del proprio ambiente delle proprie bellezze della propria storia diciamo questi signori che qui è nato il rinascimento perché urbino non appartiene alla lombardia e non appartiene a roma appartiene a noi la cultura dell'artigianato non è una cosa che appartiene a quelle tradizioni coltivatori di polenta e osti della realtà romana ma da noi si coltivava ben altro che esportavamo come stiamo facendo oggi ecco perché invito i cittadini gli elettori accogliere una riflessione nuova in queste in questa campagna elettorale siamo sicuramente ad un bivio un bivio che è nelle mani di quanti sono in grado di comprendere che il futuro non è segnato dalle divisioni non è segnato dalle battaglie è segnato da una diversa diversa lettura di ciò che noi dobbiamo essere tra di noi e innanzitutto all'interno dei problemi che viviamo se riusciamo a ricondurre un filo rosso che è la logica che è la ragione che è il sentimento dentro uno spazio che è la politica sicuramente le marche avranno una risposta positiva incisiva e darà la risposta all'elemento principale che è quello che vivono le nostre famiglie che è il lavoro perché il lavoro rappresenta la dignità dell'uomo rappresenta la possibilità di scegliere rappresenta la possibilità di costruire rappresenta la possibilità di disegnare un futuro se questo contesto viene in qualche modo negato perché i disegni appartengono ad altri e come vuole testimoniare il centro-destra appartengono a progetti nazionali, sovranazionali, divisivi, le marche si piegeranno ancora e non credo che sia questo che vuole la nostra gente indubbiamente abbiamo un patrimonio culturale da difendere come se la nostra cultura, le nostre tradizioni fossero minate, contaminate insomma da qualcuno che cerca in qualche modo di offendere la nostra identità, mi pare di leggere beh diciamo che questi che parlano delle marche, le marche non le conoscono perché non ci sono mai stati è come se io parlassi di paesi che non ho mai visitato io non è che gli invito volentieri, Salvini può stare benissimo dove sta e la Meloni lo stesso gli inviterei a fare un viaggio in una città che forse gli piace ancora di più New York gli invito ad andare al museo di arte moderna, di fare un giro e vedere che trova l'esposizione di Giacomelli però gli dico che Giacomelli è di Senigallia, non è della Lombardia, non è della regione Lazio Leonardo era uno che viveva da queste parti, Leonardo da Vinci ed è qui che ha inventato tante, ha avuto tante intenzioni per realizzare tante opere studiando le rocche, la rocca di Pesaro, la rocca di Senigallia così pure gli steward che hanno vissuto nella nostra terra e sono inglesi vogliamo andare avanti con Raffaello, vogliamo parlare dell'Apis vogliamo parlare di ciò che è stata l'espressione culturale vogliamo parlare del mondo che ha rappresentato Baldini o Federico vogliamo parlare della famiglia Albani e del perché gli Albani appartengono a questa terra pur provenienti dall'Albania ecco questi signori prima di parlare di noi dovrebbero studiare da dove noi veniamo perché questi elementi che appartengono al nostro DNA sono stati la mulla perché questo ci appartiene per natura a tutto quello che poi questa regione ha costruito e realizzato che cosa è mancata a questa regione? è mancata una visione ma una visione di progetto che gli consentisse di superare i confini questa regione ha superato i confini grazie agli uomini di questa regione non grazie alle infrastrutture di questa regione grazie agli imprenditori di questa regione non grazie alla viabilità di questa regione ecco dove sta la differenza e dove va ricostruita la politica la politica va ricostruita nelle visioni di progetto perché la politica fa parte di quel percorso di relazione è di evoluzione che arricchisce l'uomo perché sta al servizio dell'uomo io ritorno a misurarmi con questa vicenda elettorale per una ragione semplice intanto per l'orgoglio di essere marchigiano e poi perché sono convinto che ad un certo punto della propria vita quando si è risoluto tanto dal sistema sociale, politico in cui ho vissuto bisogna restituire qualcosa ed è quel qualcosa che è dato da un lato da competenza un lato da una visione e questa visione non è una visione personale perché la destra e la sinistra possono dividersi sulla costruzione di una parete forse sul colore forse si dividono su quello che è il progetto d'uomo sul progetto della dignità, dell'identità e se noi non cogliamo questo aspetto non è che noi immaginiamo una regione che va bene lo stesso non va bene ma non va bene perché vengono a mancare quegli elementi fondamentali che sono dati da tutto ciò che è un patrimonio che noi abbiamo le università ma quanto incide la presenza dell'università in un contesto sociale? Quanto apporto dà da un punto di vista culturale? la formazione lo sviluppo tecnologico le reti ma non sono questi gli elementi su cui si disegna un nuovo mondo ma non perché c'è l'internazionalizzazione perché il problema più bello è che quando uno si misura su un prodotto se non è accompagnato da cultura questo prodotto non si realizza io mi ricordo anni fa parlavo con un imprenditore del settore tessile che per un momento avevano immaginato che tutto quello che poteva essere realizzato dal punto di vista della costruzione del prodotto poteva essere fatto a costi più bassi in Tunisia, in Algeria o in altri paesi e avevano deciso di spostare laggiù i capi spalla ma il problema vero è che non riuscivano a realizzarli perché il problema del capo spalla è che doveva essere costruito in un certo modo e non era nella loro cultura perché il capo spalla non esisteva nel loro concetto costruttivo e sono dovuti ritornare qua e allora questa grande crisi che noi abbiamo vissuto dal punto di vista economico che il Covid ovviamente ha accompagnato è anche la chiave per riportare qua quel patrimonio di competenze che all'interno di questa regione ha fatto sviluppare un mondo di imprese un mondo di economie noi abbiamo una dimensione produttiva estremamente importante tra l'altro atipica perché noi abbiamo i distretti ma abbiamo soprattutto che cosa un concetto di territorio che se venisse esaltato da un punto di vista di tipicità darebbe a questa realtà regionale non solo ricchezza ma occupazione senza che sia necessario raggiungere chissà quali mete da un punto di vista di sogni tecnologici o di grandi realizzazioni perché noi abbiamo rispettato il territorio ma qual è la ricchezza più bella di questo territorio è che abbiamo nell'arco di 50 km mare, montagne, neve, sole abbiamo bisogno di costruire un ragionamento diverso il turista non è che va accompagnato nell'entroterra quando piove va accompagnato quando c'è il sole perché la luce gli consente di vedere la bellezza dei colori della nostra argilla che è l'argilla del palazzo d'Urbino con cui hanno fatto i mattoni ma la bellezza dei dipinti di Raffaello la bellezza delle costruzioni delle nostre chiese la bellezza del nostro territorio guardare una montagna con la luce è ben diverso rispetto a vederla col mondo grigio e con le nudi ecco dove manchiamo noi noi dobbiamo realizzare questo progetto nuovo un progetto che è fatto con una dimensione diversa rimettiamo al centro di questo progetto l'uomo perché soltanto con l'uomo che si riescono a realizzare i grandi obiettivi non sono gli uomini seguiranno come erano le salmerie di Napoleone sono gli uomini che precedono le cose e se noi riusciamo a ritestimoniare dentro questo progetto la centralità essenziale di un punto di equilibrio qual è la figura dell'uomo all'interno della politica sicuramente rompiamo tutti quei luoghi comuni che ci portano a creare le divisioni a rompere le realizzazioni importanti a rimettere in discussione ogni giorno quello che si è realizzato ieri certo per fare questo occorre guardare lontano bisogna avere un sogno perché se non si ha un sogno nella vita non si riesce a cogliere nessun obiettivo vivi la quotidianità ma quella ti è data è come discutere del tempo il tempo ce l'hai il problema è come lo vivi o come riesci a viverlo perché se il tempo ti gestisce tu non lo vivi ma se il tempo lo gestisci tu assapori lo spazio assapori la dimensione ritorniamo al vecchio concetto dell'ozium che apparteneva alla concezione latina o greca questo perché? perché in quello spazio si ricrea l'equilibrio il nostro è un mondo fatto di energie è un mondo fatto di entità che non leggiamo e che la politica non riesce a normare per fortuna ci hanno provato in un certo tempo anche in Italia hanno provato a normare tante cose a far cambiare anche il pensiero fino a pensare che c'era il diritto di opinione che doveva essere esercitato da qualcun altro e non come libero pensiero soggettivo però questa dimensione è la dimensione di uno spazio diverso quindi la forza del territorio la forza della nostra cultura la forza delle imprese il dialogo tra i comuni altro non sono che gli uomini bisogna partire forse da un concetto diverso a proposito di uomini lei è anche coordinatore regionale della Lega per i diritti dell'uomo e uno dei diritti dell'uomo è la libertà di pensiero di espressione quindi anche una forma di libertà di anime se così si può dire forse dobbiamo partire da questo? dobbiamo partire da quello e dobbiamo partire dalla grande qualità che fa nascere la differenza dei pensieri quando le persone esercitano un principio di rispetto della dignità individuale gli si consente attraverso il lavoro di poter manifestare le loro capacità i loro meriti dare risposta ai loro bisogni cogliere la capacità di confrontarsi questo diventa lo strumento di crescita essenziale la politica non è un percorso dove vi sono soltanto spazi di decisione legati a definizioni di natura amministrativa o burocratica la politica segna il percorso una volta le leggi testimoniavano la trasformazione di un popolo la trasformazione sociale perché accompagnavano il cambiamento e la legge arrivava dopo perché registrava un fenomeno sociale nuovo se la politica regionale riesce a ricostruire questa dinamicità se il contesto su cui noi andiamo a misurare le nostre qualità sono quelle di una larga visione e con contributi importanti da parte di tutti i cittadini noi possiamo davvero immaginare che la miglior risorsa che abbiamo disponibile sono i marchigiani altrimenti la miglior risorsa che dobbiamo cercare sono quelle economiche che sono importanti ma non sono complete nella loro forza per poter realizzare un progetto che ha una visione di grande novità io mi sono candidato con la lista del presidente Mangialardi nel centro-sinistra non solo per testimoniare il desiderio di un contributo alla costruzione di questo progetto politico ma soprattutto perché ho notato il grande cambiamento che è intervenuto nella realtà di Senigallia dove il candidato presidente sindaco ma questo cambiamento è stato figlio di una percezione generale da parte dei cittadini tutti si sono messi in gioco creando un progetto questa è la politica non è qualcuno che ti dice devi fare è qualcuno che si propone per fare il percorso del per fare è un percorso che ti accompagna in tutta la vita perché ciascuno di noi desidera cogliere un obiettivo trovando tutti gli strumenti perché poi questo si realizzi e nel realizzarsi molte volte si può naufragare come diceva Leopardi che il medorcio deve naufragare in questo mare ma perché guardava lontano perché guardava oltre uno spazio che non era quello che gli veniva costretto da una dimensione di progetto realizzato da altri per conto terzi e quindi coloro che vengono da fuori e che ti dicono cosa devi fare ma è il tuo progetto e questo tuo progetto è il progetto che ti porta a realizzare una dimensione nuova ridando quello che è l'elemento più importante recuperare i valori che hai i valori che hai per esempio quante proprietà pubbliche abbiamo tantissime quanti terreni incolti abbiamo tantissimi quanti nuclei familiari possono vivere nelle proprietà pubbliche che attualmente stanno cadendo le famose case coloniche tra l'altro un grande patrimonio urbanistico e di grande espressione di quello che era la costruzione rurale che potrebbero essere benissimo recuperate e si restituisce qualcosa come 50-60 mila vani per la popolazione che non ha abitazione ce ne sono sì certo perché ad un certo punto le case sono diventate piccolissime 42-43 metri quadri ti accorgi oggi che col covid qualcosa non torna più perché non ci puoi più vivere perché non hai più lo spazio perché hai bisogno di dimensioni nuove ecco la politica che cosa deve costruire riprendere queste visioni recuperare la tradizione ma la buona tradizione marchigiana e questa buona tradizione dà le risposte più moderne ai bisogni più vivi che le persone vivono oggi ecco perché la lista del presidente Mangialardi ha questa possibilità perché ci sono uomini e donne all'interno che vivono uno schema disaggregato dalla tipicità dei partiti io sono socialista ma sono candidato civico all'interno di questa lista rappresentando un mondo quello delle associazioni che in qualche modo ha spinto la mia sensibilità a misurarmi e perché credo che il contributo della lista Mangialardi è importante non solo perché fa crescere il centro-sinistra ma perché porta voci nuove voci di competenza voci di relazione e la relazione è fatta dai rapporti il nostro mondo civico è il più ricco che si possano misurare a livello nazionale però non basta più non basta più perché ti accorgi che in quell'ambito tu hai le più belle risposte di tipo organizzativo di tipo gestionale di tipo ma ha bisogno di una cornice diversa di un respiro nuovo che immagino il progetto politico del presidente Mangialardi consentirà di realizzare sperando che vi sia la consapevolezza della popolazione marchigiana a sostenere quei valori che hanno fatto importante la nostra regione in questa maniera lei ha già risposto alla domanda che lei avrei fatto sul perché votarla che poi si può racchiudere nella frase di Leopardi nella sua citazione a naufragarmi dolci in questo mare beh io spero davvero di naufragare in un mare di voti quindi invito a votare la lista Mangialardi a scrivere il nome per la mia preferenza Busca e a sostenere questa politica perché è una politica che ha un respiro ma lo dico per me in una maniera impersonale perché guardo più agli altri rispetto a quello che può essere un mio progetto temporaneo come questa esperienza elettorale perché la costruzione di un futuro ha sempre un punto di partenza questo è il nostro futuro questa lista è il nostro futuro e questa campagna elettorale segna una grande svolta nelle Marche perché questa svolta è già partita è già partita con quanto è accaduto politicamente prima è partita con la grande battaglia feroce che sta facendo il mondo della destra nei confronti dei marchigiani per indirizzarli su un'altra via che non è la via del progresso non è la via della realizzazione di un percorso che segna un cambiamento vero ci portano indietro e io vorrei continuare ad andare avanti bene il tempo a nostra disposizione termina qua io ringrazio il nostro ospite Tiziano Busca grazie e ringrazio i telespettatori per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di serata con il nostro programma grazie a tutti